Mi sento youtuber oggi, oggi mi sento youtuber nel senso che facciamo un video di servizio, contenuto tecnologico, sono a Londra a casa, sono praticamente in pigiama, sono in pantaloncini e vi faccio vedere come funziona un oggetto che può servire per lavoro e per la casa, una cazzata tecnologica, delle tante che ho tra l'altro e quello che andiamo a far funzionare ora è il portal, Portal by Facebook, ok? Vediamolo insieme, lo vediamo, giro la telecamera e chiamiamo Linda Firenze e vediamo come funziona e le funzionalità di Portal by Facebook. Televisore davanti, c'è un 50 pollici, il portal è questo, portal è questo, si può chiudere per la privacy della telecamera, ma non è altro che attaccato all'HDMI, la precisione mia dei cavi, tanta roba dentro, l'Xbox, la Playstation, la televisione, Sky, la BT Telecom, ok, si attacca all'HDMI e funziona così, intanto si prende e si va e si accede, e si attacca alla televisione, all'HDMI, l'HDMI, il portal va chiaramente in wireless e si attacca al router di casa e praticamente cosa fa? Beh, non fa altro che, in pratica, ci sei? Le stesse, ok, questo è il BT Player, ho sbagliato l'HDMI, questo è il BT Player, c'è praticamente la rete via cavo, mentre noi andiamo su HDMI 1 e andiamo su Portal by Facebook, Facebook, facciamo brutte figure, eccolo qua, che cos'è Portal by Facebook, dove si vede già benissimo, uno è altro che questa telecamera che ha in alta risoluzione, cioè in 4K praticamente, ti fa fare le telefonate, praticamente si può telefonare alle persone, riprendendo tutti quelli che sono i tuoi contatti di Facebook e di Whatsapp e telefonando a chi vuoi. E in più che cosa abbiamo? Oltre ad avere questo abbiamo Spotify, abbiamo anche altri, abbiamo Facebook Watch, quindi in teoria, siccome questo è essenzialmente un aggeggio che dovrebbe funzionare, funziona per lavorare con Facebook e Whatsapp, però ti hanno anche dato la possibilità di lavorare su Spotify, con, poi fa anche delle specie di storie, le storielline sono queste qua, e app di Portal, vediamo dove va, c'è anche altre funzionalità e aumenteranno queste app che ci sono all'interno del Portal, della macchinetta, per far diventare televisore in pratica smart, e non c'è altro che qui abbiamo Amazon, poi abbiamo Deezer, Red Bull TV, ed è chiaro che già mi sembra che mettendo Prime, Amazon non fa poco, Facebook mettendo anche una concorrente, ma diciamo che Google è il concorrente diretto, quindi il Portal si appoggia comunque a Prime, come praticamente per visualizzare video, TV e cose, mancano altre applicazioni, che però insomma si trovano in altre, sulla Chromecast o nella smart TV in generale, ma chiamiamo a questo punto la linda, vediamo il funzionamento, come si può, si toglie un telecomandino, una sega di telecomandino che è questo, con questo torniamo indietro ed eccola lì, e ora chiamiamola Linda, chiamiamola Linda, eccola qui, Linda suggetta, ecco che lui prende, ti chiede se fare una telefonata a video, audio, eccetera, 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 si chiama, Linda, mi discernissi, appaio io in 50 pollici, mi abbasso, e cosa fa? Se vedete, guardate bene, io mi muovo, ecco la Linda, Linda sto provando, sto facendo lo youtuber, il blogger, il vlogger, quindi non dire niente di sconveniente, ciao, come stai? Sono bene, sono in diretta? No, non sono in diretta, sto registrando, lo metto dopo, voglio far vedere che funziona, che se io mi sposto, la telecamera si sposta, quindi è il coso, e tu mi vedi un po' lenta, come dicevi te prima, però si sposta, io mi sposto, la telecamera si sposta, e mi senti bene? Sì, benissimo, sei contenta di vedermi? Tanto, me lo sento, ok, allora ti saluto, mandi un bacio? Allora riattacco? Ciao amore! Ok, riattacco, riattacca tu? Riattacco io? Ok, eccola, il rating delle telefonate, la telecamera si vi sta bene, questo è portal by Facebook, nulla di che tutte le, praticamente, come si vede, tutte le ultime telefonate si vedano scorrere qua, quelle sono state fatte con Messenger, e la possibilità di agganciare, c'è anche Andrea degli Sposti, c'è mia figlia, c'è Giannini, Enrico, eri un po' giovanino, eri più giovane in questa foto, vecchio furbacchione, e niente, e per il resto, c'è Xami, c'è Umberto, credo che sono i preferiti, e poi c'è tutta la parte WhatsApp, che si apre praticamente, qui sotto, nel senso, di portal, e comunque, cosa ha questo, questo, il portal è che, stando acceso, quando arriva le telefonate, su WhatsApp o su Messenger, vi squilla automaticamente, anche la televisione, e vi arrivano anche qua, un'altra cosa, quindi, un'altra cosa per la privacy, ecco, che questo, ecco, si chiude, e in pratica, in pratica, questo per la privacy, non si vede più, non si vede più, insomma, è normale per la privacy, credo sia logico, poter chiudere l'otturatore, in modo da evitare essere, questo è Portal by Facebook, con questo video di servizio, io e il portal vi salutiamo, arrivederci a tutti, da Londra.